Benvenuti a questo webinar. Allora, per quello che è possibile, domani sarà tutto su YouTube. In ogni caso, comunque, le slide di Francesca sono assolutamente a disposizione. Mandate una mail a Francesca, la mail la trovate probabilmente in calcia, le slide, ma la trovate anche sul sito, andate su freefinance.biz, trovate la sezione contatti, se non sbaglio avete l'indirizzo email, potete chiedere assolutamente le slide. C'erano un paio di domande... Provo a mandarle anche nella chat, se riesco. Almeno se l'abbiamo proprio tutti. Vediamo un attimo, se riusciamo, non sembra facile. No, non riesco a mandarle io. Niente, le manderemo però alla fine a tutti i registri. Mando la slide a tutti, allora, cioè mando la cosa in chat a tutti. Allora, ci sono varie domande. Allora, Giuseppe mi chiede il tuo sentiment sul certificato Sile Tracker su MicroStrategy. Allora... Come avete parlato nel webinar precedente. Sì, allora, diciamo che MicroStrategy sia un po' staccata, tra virgolette, dal Bitcoin. Diventa quasi un prodotto a leva, secondo me, sul Bitcoin. C'è un punto importante. MicroStrategy sta continuando a comprare Bitcoin. Quindi si sta comprando, diciamo, ma molto di più rispetto ai valori che avevamo mostrato precedentemente. Abbiamo un webinar lunedì prossimo che parla di Bitcoin, IPO di Coinbase, su cui andremo a vedere anche proprio MicroStrategy. In generale, attualmente, moltissimi istituzionali si stanno spostando su MicroStrategy per fare una sorta di leva sul Bitcoin. Quindi questo, secondo me, è un parametro importante. Nel lungo periodo, la mia view personale è che MicroStrategy sale grazie alla salita del Bitcoin. Quindi, secondo me, la salita del Bitcoin è molto legata all'IPO di Coinbase, è molto legata anche a degli altri parametri che si stanno, diciamo, verificando negli ultimi giorni e che hanno portato poi il Bitcoin anche a 60.000 dollari. E lo vediamo, diciamo, che il Bitcoin sale, fa questo piccolo gradino e poi riscende. E, diciamo, è una sorta di test questo 60.000 dollari. Ma nel momento in cui buca questa sorta di resistenza, tra virgolette, di 60.000 dollari, in quel caso è molto importante monitorare MicroStrategy. Perché in quel caso MicroStrategy può andare a colmare il gap che ha rispetto al Bitcoin, il gap di correlazione, tra virgolette. Quindi è sicuramente un'azione attualmente molto più rischiosa rispetto a un mese fa, quando l'abbiamo presentata. Ma è un'azione molto, molto più interessante rispetto a un mese fa, quando l'abbiamo presentata, secondo me. Ovviamente io non ho la palla di cristallo, quindi non so quando, diciamo, si colmerà, tra virgolette, il gap di correlazione. Ma fondamentalmente il punto è più Bitcoin acquista, più è legata al Bitcoin. E quindi tendenzialmente, prima o poi, è come una sorta di, tra virgolette, volatilità. La volatilità non può stare mai ai massimi. Fondamentalmente anche la correlazione deve tendere, diciamo, alla correlazione reale, diciamo, degli asset della società. Poi può arrivarci magari in un anno, in dieci anni o in due giorni. Questo non lo sappiamo, insomma. Perfetto. Poi ci sono un altro paio di domande, ce ne sono tante in realtà. C'è Alessandro che ci chiede una domanda sul pricing. Quanto conta che il prezzo di un certificato sia sconto a premio rispetto alla lineare? Nel discorso che hai fatto ovviamente prima. Allora, diciamo, in generale dipende dalla struttura. Quindi è una domanda ultra complessa per cui rispondere. Diciamo, se si tratta di strutture semplici è più facile rispondere a questa domanda. Ma su una struttura come il cash collect è molto più difficile. Quando siamo poco lineari, tra virgolette, quindi quando il delta, quindi diciamo, il delta è quel parametro che ci va a misurare quanto siamo lineari, tra virgolette, con il sottostante. Quindi meno delta abbiamo, più siamo su un prodotto che ha una struttura complessa. E quindi, probabilmente, proprio perché si muove di meno, è più resiliente. Quindi tende a, diciamo, muoversi di meno quando si muove, diciamo, il sottostante, quando si muove la volatilità, quando si muove magari anche il parametro dei dividendi. Si muove di meno rispetto al sottostante, che significa che ci protegge di più. Allo stesso tempo si muove di meno in entrambi i casi. Quindi si muove di meno, sia se sale il sottostante che se scende il sottostante. Questo è chiaro. Essendo un prodotto resiliente, è un prodotto che dà il suo massimo al momento dell'emissione. Quindi se lo potessimo comprare il giorno di strike, quel prodotto è al suo massimo rendimento. Poi, ovviamente, se c'è una forte correzione del sottostante, la sente e quindi magari aumenta anche il rendimento. Però, in generale, sono prodotti molto resilienti. L'abbiamo visto a marzo del 2020, i prodotti, quelli che avevano, ad esempio, l'autocall step-down, molto profonda, barriere molto profonde, non sono andati sotto i 89 euro, più o meno, mentre altri magari sono andati subito verso i 60. Quindi questo ci ha fatto vedere che neanche nel peggiore dei casi comunque perde circa un 10% quella tipologia di prodotto. E secondo me sono prodotti interessanti, specialmente in questo momento storico, perché se arriva la correzione, quello è il prodotto che perde meno. Se non arriva, abbiamo rinunciato, diciamo, a una parte di rendimento. È giusto così. Dall'altro lato, se arriva, siamo pronti. È un po' quello il discorso. E per questo, diciamo, l'ho inserito anche nel webinar, perché secondo me in questo momento storico possono essere interessanti. Poi chiedono se un certificato all'emissione ha lo stesso costo di uno già quotato sul mercato. Allora, dipende se c'è una fase di primario oppure no. Quindi se c'è una fase di primario, ovviamente c'è un costo per la distribuzione, quindi per remunerare, diciamo, la rete che distribuisce il prodotto. Se invece è un prodotto in direct listing, quindi che va direttamente sul mercato secondario, è tra virgolette uguale. Se lo compriamo oggi o lo compriamo quando, diciamo, i parametri sono gli stessi tra magari un anno, diciamo, a parità di costo, più o meno è lo stesso. Ovviamente all'emissione, tra virgolette, è più costoso il prodotto, perché ha più potenzialità di rendimento. Quindi il prodotto costa meno nel momento in cui ha meno potenzialità di rendimento. Quindi se siamo a un giorno dalla scadenza, il prodotto costa quasi zero, perché non ci guadagniamo niente fondamentalmente. È un po' quello il discorso. Esattamente. Mi chiedono anche l'islin del certificato che hai descritto su MicroStrategy. Adesso mando tutto in... Anzi, facciamo così, guarda. Ti prendo un attimo la linea che condivido lo schermo. Non so se tu ce l'hai sotto mano. Oppure... Allora, penso che lo troviamo anche da qui. Ti ho detto l'ISIN. Sicuramente c'era anche qui. Se vuoi ho l'ISIN davanti, se vuoi te l'ho detto. Eccolo qui. CH 0594 780394. Cioè sia un tracker certificate, che quindi è una replica lineare dell'azione, L'unica differenza rispetto, diciamo, alla replica lineare vera e propria dell'azione è il fatto che c'è una commissione di gestione che è data dal fatto che c'è una protezione rispetto all'andamento del dollaro, che è abbastanza importante. Io lo vedo, diciamo, operando su Bitcoin. È quasi fondamentale questa protezione, direi. C'è anche un altro prodotto, sempre su MicroStrategy, che invece è una pena, che è cresciuto di prezzo anche rispetto a quando l'abbiamo segnalato. Possiamo vedere più o meno a quanto è. Eccolo qui. Non vediamo il prezzo, ma più o meno dovremmo... 93,65, diciamo, l'avevamo segnalato quando era sugli 80. Perfetto. Poi ci sono un'altra maria di domande, ma io direi andiamo avanti con la presentazione, perché altrimenti io sto rispondendo molto in privato in realtà, per quanto possibile, ma ci sono centinaia di risposte e domande, cioè andiamo avanti con la presentazione, poi dopo sul resto torneremo. Allora, ci sono due prodotti che sono di nuova emissione, che partono nelle negoziazioni domani, che ho trovato da Borsa. A me piace leggere tutte le nuove emissioni di Borsa, quindi penso siano abbastanza interessanti per due motivi, perché sono due prodotti diversi, diversi anche come il livello di rischiosità, ma sono legati da un parametro in comune, che è quello che la maggior parte degli asset manager sta incrementando le posizioni su questi sottostanti. In particolare su questo, diciamo che è il prodotto tra i due il più rischioso, è su Spotify, Square e Twitter, ha una barriera premio e barriera capitale al 50%, la barriera autocall, step down, ha una barriera veramente particolare in questo caso, perché va dal 100% al 50%, ma discende del 2% ogni mese, quindi a differenza, diciamo, delle solite barriere che vediamo, magari stare, tra virgolette, ferme per un po' di mesi, allo stesso livello, scende sempre e arriva, diciamo, le ultime quattro date sono tutte 4 al 50%, quindi è, diciamo, molto facile l'autocall nelle ultime date. Il premio mensile è di 1,09€, è un 13,08€ anno, quindi comunque un rendimento importante. Ho dato le scadenze a marzo del 2024, quindi anche, diciamo, a tre anni, abbastanza lungo. L'autocall è possibile a settembre del 2021 e parte in negoziazioni domani. Ho fatto un'analisi, diciamo, delle barriere sui diversi sottostanti, quindi la prima è Spotify, che è abbastanza protettiva, se vediamo, diciamo, anche la risalita rispetto ai massimi che aveva raggiunto Spotify, è sceso, quindi comunque fa strike in un momento abbastanza interessante, anche da un punto di vista grafico, e la barriera è effettivamente molto protettiva. Stessa cosa per Square, tuttavia Square ha, secondo me, avuto una risalita, diciamo, un rally così alto che qualsiasi barriera era quasi inutile. Ovviamente non è una barriera protettiva come quella di prima, quindi secondo me non è una barriera così significativa come quella di prima, comunque è una barriera al 50%, e considerando, diciamo, un parametro interessante è proprio considerare le azioni su cui investono gli asset manager, perché quando si muovono gli asset manager si muovono con forti masse, quindi ovviamente salgono quelle azioni, tendenzialmente, se anche correggono, correggono meno. E' un po' quello il discorso, secondo me, che era appunto interessante e per la quale ho selezionato questi due prodotti. E su Twitter invece è una barriera abbastanza protettiva, diciamo, non è tra le più protettive che ci sono sul mercato proprio perché è stato emesso sempre in una fase di correzione, ma comunque con Twitter, diciamo, a livelli alti, ma è comunque una barriera al 50%. E il secondo certificato, che è sempre, diciamo, motivato dalla stessa idea, quindi la scelta proprio degli asset manager, sono tre sottostanti un po' meno noti, quindi ritorniamo alla prima parte del webinar, se non li conosciamo, non investiamo. Però è un prodotto interessante perché è un prodotto sicuramente meno, diciamo, redditizio rispetto all'altro, quindi anche un po' più tranquillo. ovviamente su tre sottostanti un po' più particolari. Il più conosciuto è sicuramente Sony, su cui io, banalmente, ho una view rialzista, anche solo per la PlayStation, che penso venderà tantissimo. Gli altri due sono, diciamo, una è una banca e l'altra è tale Education. La banca HDFC è una banca indiana che opera, diciamo, su diversi paesi. la data di scadenza in questo caso è marzo del 2024, è un prodotto abbastanza standard, quindi non ha l'autocall step down come quello di prima, semplicemente tutto al 50%, barriera premio e barriera capitale. L'autocall è sempre da settembre 2021 e fa parte, diciamo, della stessa emissione. Qua vediamo, diciamo, la barriera su HDFC che effettivamente è molto protettiva se lo vediamo anche rispetto proprio ai minimi che si sono avuti nella fase di stress del 2020. Vediamo poi Sony, anche qui la barriera è effettivamente protettiva, questo è un grafico a 5 anni e tale Education che anche qui secondo me la barriera è sufficientemente protettiva. Presento velocemente un prodotto che secondo me è ancora interessante anche rispetto a quando è stato segnalato. C'è stato richiesto su Free Finance quindi il sito di cui sono fondatrice un'analisi sui titoli su Moderna proprio perché c'era questa forte correzione su Moderna che è ancora in corso e avevo pubblicato un articolo diciamo presentando secondo me tra le diverse soluzioni che erano presenti sul mercato e vi invito a rivedere proprio l'articolo per decidere se effettivamente anche questo era il prodotto che rispondeva di più alle vostre esigenze. questo prodotto secondo me è molto interessante perché su Moderna è Pfizer quindi c'ha due sottostanti rispetto ai soliti tre sottostanti che troviamo su Pharma o anche quattro ha scadenza due anni quindi abbastanza breve il premio è trimestrale con effetto memoria di 2,51 euro quindi un 10 anno che comunque è un bel premio Moderna è sicuramente una stock volatile ma la correzione la rende un po' più interessante la barriera premio la barriera di protezione del capitale al 50% e il prezzo attuale è il 98 lo avevamo segnalato quando era circa sui 96 se non erro e in questo caso vediamo come Moderna che è il peggiore dei due quindi Pfizer è già a un più 4 Moderna è un meno 9% quindi diciamo rispetto alla data di strike ha corretto ulteriormente però vediamo come la barriera capitale effettivamente è molto 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 protettiva e questo secondo me è anche interessante diciamo proprio perché ha delle barriere effettivamente molto basse è su un settore farma che è diciamo uno dei settori che sopravvivrà di più alla pandemia ovviamente è un settore che non morirà più dopo la pandemia mettiamola così non penso ci siano più vere crisi di questo settore quindi è interessante perché è anche sotto la pari quindi a 98 euro ai valori attuali paga 8 premi quindi si arriva diciamo fino a un totale di 120 e 08 euro e al prezzo attuale ci rende circa un 11 e 26 annualizzato quindi un 22 e 53% quindi sicuramente un prodotto interessante vado avanti non so se ci sono qualche domanda in più che vogliamo mi segnalano che nella ho perso la cosa comunque dicono il licensing della seconda scheda è uguale al primo si vede che c'è stato un problema di copia e incolla immagino quindi dopo comunque in mail forniremo anche tutti gli altri entrambi diciamo il concetto è quello grazie per la segnalazione avevo portato tantissimi sono arrivate 7-8 messaggi almeno con questo dettaglio quindi grazie mille per la segnalazione grazie almeno lo lo correggiamo prima di mandarvi le slide ho fatto un'analisi anche su il settore shopping online che è sicuramente un settore molto interessante soprattutto sono nati diversi prodotti anche nel tempo quindi che hanno degli strike un po' più bassi ovviamente quelli che non sono andati in autocall perché ne sono andati parecchi in autocall e l'idea era quella di prendere almeno due stocks big come Amazon e Alibaba che si diciamo sono specializzate nello shopping online e che tra virgolette sono un po' le più forti su questo settore e andare a cercare dei prodotti che magari ci diano un extra rendimento anche magari inserendo un terzo player tra tutti i prodotti quindi ce ne sono diversi tra tutti i prodotti questi cinque che vediamo nella slide sono quelli un po' più interessanti quindi abbiamo quattro prodotti di Fontobel e uno di Leontech cioè vedo un errore non è l'ultimo prodotto è di Leontech il primo è su Alibaba Amazon e Walmart con barriera premio e capitale al 50% scadenza agosto del 2022 e premio del 2,23 trimestrale quindi un 8,92 anno e quota circa a 97,60 il secondo è solo su Alibaba e Amazon che è sicuramente molto interessante perché ha una barriera premio e capitale al 50 l'autocall e strike al 100 il premio è mensile in questo caso quindi ha una frequenza premio diversa rispetto al primo a 0,67 mensile 8,04 anno e quota a 96,80 il terzo Alibaba Amazon e Zalando che ha una barriera premio e capitale al 50% autocall e strike al 100 scade a gennaio del 2024 quindi un po' più in là rispetto agli altri due e ci paga un premio trimestrale dell'1,81 7,24 l'altro prodotto il memory cash collect di Fontobel su Alibaba Amazon e Baidu sempre al 50% barriera autocall e strike al 100% scadenza febbraio 2024 il premio è del 2,25 trimestrale e 98,80 il LeonTech se non erro valeva un po' di più quindi forse c'è un errore su questo slide ma magari lo troviamo proprio successivamente partiamo dal primo il primo diciamo se andiamo a vedere quindi io volevo far vedere come selezionare un prodotto rispetto alle proprie aspettative quindi fondamentalmente qui possiamo scegliere tra aggiungere quindi comprare il prodotto solo su Alibaba e Amazon aggiungere Walmart aggiungere Zalando aggiungere Baidu o aggiungere Ebay quindi andiamo a vedere come sono questi sottostanti è il primo a Walmart dove vediamo effettivamente una barriera diciamo capitale effettivamente molto protettiva quindi se vediamo proprio il grafico è interessantissimo l'unico problema è che è un po' scorrelato dallo shopping online perché fondamentalmente se andiamo a vedere proprio dagli ultimi dati statistici attualmente lo shopping online pesa l'8% sul fatturato del Walmart si pensa possa arrivare a un 10% quindi comunque è un prodotto interessante se diciamo si ha anche una view più moderatamente rialzista o ribassista su Walmart però è meno correlato all'idea del shopping online andiamo a vedere il terzo prodotto che è quello su Zalando se andiamo diciamo se analizziamo tra virgolette così solo graficamente Zalando diciamo sì la barriera è protettiva però non è super protettiva perché come vediamo diciamo i minimi di marzo sono abbastanza distanti rispetto ai valori diciamo di barriera però Zalando è una società che effettivamente ha ampio spazio di crescita perché perché dal diciamo vediamo proprio il primo grafico diciamo sono due grafici di statista il primo è il numero di clienti attivi e vediamo che appunto c'è una crescita diciamo costante e mai c'è stato diciamo un quarter dove c'è stata magari una discesa quindi comunque è una società abbastanza stabile e soprattutto la Germania è un mercato importantissimo per lo shopping online quindi e Zalando è il primo player in Germania quindi questo comunque stiamo andando diciamo a prendere una società un po' più interessante magari anche rispetto a Walmart che invece ha delle aspettative un po' più basse rispetto a Zalando quindi quando andiamo a valutare le barriere dobbiamo anche valutare come dicevamo la nostra aspettativa rialzo o ribasso sull'azione andiamo a prendere il quarto prodotto e vediamo Baidu in questo caso Baidu è anche il peggiore dei basket e vediamo come la barriera capitale in effetti è non produttiva mettiamola così anche se diciamo è una barriera capitale profonda al 50% non è molto protettiva e soprattutto Baidu non appartiene al settore dello shopping online ma i motori di ricerca quindi comunque è un po' non correlato e come sappiamo quando aggiungiamo una stock non correlata alle altre andiamo ad aggiungere un extra rischio e se vediamo diciamo anche il diciamo la slide di prima per un 9% anno quindi se fosse stato un 12% sicuramente ma per un 9% anno potrebbe non avere senso il terzo prodotto che inizialmente sembrava il più interessante quindi tra tutti volevo scegliere l'ultimo che è quello su di Leontech con Ebay l'unico problema è effettivamente Ebay perché perché è una stock diciamo che sta un po' perdendo terreno a livello proprio di fondamentali ma soprattutto è molto molto volatile e la barriera non ci va a coprire i momenti di forte volatilità quindi ci potrebbe essere una forte correzione su Ebay ed è l'unico motivo per cui il vincitore non è quest'ultimo prodotto e per analizzare diciamo il prodotto centrale quindi quello che non ha il terzo sottostante ho iniziato a mettere su un grafico tutte le diverse barriere e vedere se effettivamente quanto tra virgolette si distanziavano le diverse barriere e vediamo come su Alibaba diciamo due barriere sono effettivamente molto basse vanno a coprire un punto di minimo interessante anche a livello grafico mentre su Amazon sono più o meno simili anche qui le ultime due barriere molto più protettive rispetto magari alla prima quella 1876 le vediamo proprio con con Cedlab quindi questo è uno screenshot banalmente preso da Cedlab su tutte le diverse barriere dei diversi sottostanti e vediamo come se vediamo proprio da un punto di vista di valore assoluto perché noi possiamo dire al 50% la barriera però la barriera va vista in valore assoluto perché il 50% rispetto a un livello di strike ai massimi quindi magari tra un anno quando andremo a comprare i prodotti emessi in questo periodo dell'anno che avevamo tutto ai massimi la barriera al 50% magari non è così protettiva come i prodotti emessi un anno fa e quindi il prodotto che effettivamente mi va a coprire di più su Alibaba è il terzo mentre il prodotto che mi copre di più su Amazon è il quarto e se andiamo a vedere poi un'analisi di scenario sembra abbastanza più interessante rispetto agli altri il terzo quindi nonostante il terzo diciamo sulla carta ci dà un minor rendimento effettivamente ha un prezzo più basso ha la barriera come abbiamo detto su su Alibaba più bassa rispetto a tutti gli altri quindi un livello di protezione più alto Amazon se vogliamo è il diciamo tra virgolette la stock che ci preoccupa un po' di meno Zalando è quella che ci preoccupa di più ma è anche il player tra virgolette migliore della Germania che è dove si sviluppa di più lo shopping online quindi se vogliamo andare a investire sul shopping online Zalando è sicuramente una società da considerare ovviamente come dicevamo non è detto che questo risponda alle esigenze di tutti perché magari c'è chi per esempio preferiva la società ebay e quindi avrebbe scelto l'ultimo prodotto chi preferiva walmart o chi invece non voleva proprio inserire un terzo player e quindi va semplicemente sull'Alibaba Amazon ma questo è per far vedere proprio il ragionamento di prima quindi come scegliere un prodotto quindi in questo caso per esempio sulla mia view che per esempio ho una view rialzista su Zalando ma anche se non fosse rialzista e rimanesse a questi livelli comunque il certificato ci dà un bel rendimento vediamo appunto il grafico anche preso da ShedLab attualmente il prodotto lo acquistiamo a 96,80 euro e paga un premio fino alla naturale scadenza quindi in totale 12 premi perché è un premio trimestrale di un euro e 81 quindi un 21 e 72 euro di rendimento da premio quindi circa un 9% annualizzato che considerando diciamo le diverse barriere quindi la barriera più protettiva su Alibaba il fatto che la terza società si è azzalando e il fatto che anche se non abbiamo la barriera più protettiva su Amazon comunque abbiamo una barriera effettivamente molto bassa su Amazon tra le diciamo la seconda più bassa e ci dà questo rendimento del 9% magari rinunciamo a una parte di rendimento per avere più protezione questo era per far vedere diciamo come scegliere i prodotti in questo caso sullo shopping online io andrei di domande perché vedo che ce ne sono un milione esatto diventa anche quasi difficile selezionarle tutte perché sì siamo vicini al milione probabilmente segno di successo perché le presenze sono tantissime per cui anche le domande allora tu le vedi no le domande? sì le vedo allora sto diciamo ne vedo tantissime quindi proviamo a partire provo a partire dalle ultime infatti per esempio diciamo io ho presentato diverse soluzioni ma ognuno ha risposto a me piace più il primo a me piace più il secondo e questo è per far vedere come quando andiamo a analizzare i certificati ognuno di noi ha una propensione a rischio diversa crede di più o di meno in un tema crede di più o di meno a un'eventuale correzione quindi ovviamente non sappiamo finché non è finito l'investimento chi di noi aveva ragione ecco ok vedo un sacco di domande sto andando piano piano allora ci chiedono diciamo se uno dei prodotti presentati ma vale per tutti è della tipologia quanto tutti i prodotti che inserisco all'interno della presentazione sono sempre quanto sono avverso al rischio di cambio quindi in genere non lo metto quindi sì assolutamente ne vedo tantissimi vedo che c'è una domanda Michele chiede se noi questi certificati li compriamo sì nelle mie slide è anche segnalato noi siamo in conflitto di interesse perché questi prodotti possiamo tranquillamente averli all'interno del nostro portafoglio quindi questo assolutamente assolutamente diciamo io la maggior parte di quelli che trovate in shortlist li prendo quindi quando sono in shortlist è perché qualcosa c'ho c'ho anch'io quindi sì assolutamente ovviamente non crediamo diciamo in tutti i sottostanti magari perché delle volte mi viene chiesto magari un'analisi su un particolare sottostante quindi magari pubblico l'articolo su un particolare sottostante però non è detto che magari trovo una soluzione quasi un arbitraggio secondo me visto che prezzo tutti i giorni e vedo anche i prodotti della grand'area istituzionale delle volte trovo dei prodotti effettivamente molto interessanti e li segnalo e li metto anche in shortlist ci danno un'interessante informazione su Walmart che io non sapevo che forse faranno i vaccini all'interno di Walmart quindi questa potrebbe essere sicuramente un'informazione interessante che potrebbe far prorrendere verso il primo dei certificati quindi non venderanno più vestiti faranno zero di fatturato però no diciamo che Walmart secondo me è una bellissima società non so tanto adesso quindi leggendo le notizie spesso diciamo anche proprio su giornali americani Walmart non viene presentata benissimo semplicemente è quella la ragione per cui non ho selezionato quel certificato ci chiedono come mai guardando alcuni certificati il prezzo solo in denaro è diverso dall'effettivo valore su Borsa Italiana qui sul denaro lettera di Borsa Italiana questo perché il sito di Borsa Italiana ha aggiornato il ritardo rispetto ai diciamo i prezzi che si trovano nei siti dei diversi emittenti perché quei prezzi in genere vengono proprio dal desk di market making mentre i prezzi diciamo di Borsa sono prezzi sempre diciamo ritardati di 15 minuti quindi in generale è per quello non so se tu vedi qualche altra domanda no stavo stavo ragionando che invece io su Walmart sono assolutamente positivo nel senso che guardando i bilanci è una società che ha avuto qualche crisi negli anni passati poi in realtà ha ristrutturato in parte il suo business si è concentrato anche sulla parte online in realtà il bilancio del 2020 è stato assolutamente interessante da quel punto di vista lì quindi è una società secondo me sottovalutata non tanto come quotazioni che lì dovrebbe fare delle analisi più accurate ma proprio da un punto di vista di percezione perché è vero che negli anni precedenti gli utili si erano contratti ma in realtà nel 2020 sono tornati a livelli molto interessanti per dare un'idea il 2020 ha raddoppiato gli utili rispetto al 2019 e comunque rispetto al 2018 aveva fatto un più 50% il ROE e ROI sono entrambi positivi sono entrambi a doppia cifra quindi secondo me è una società che viene percepita in realtà in modo meno brillante forse per questione di marketing e di comunicazione della società rispetto ai numeri proprio della società a me piace particolarmente sicuramente diciamo post pandemia potrebbe avere un forte rialzo perché comunque Walmart è un'istituzione per gli americani è anche questo un po' il discorso quindi come tutte le società diciamo un po' istituzione per gli americani effettivamente tendono a mantenere anche i livelli di prezzi abbastanza stabile non la troviamo spesso nei certificati proprio perché non ha tantissima volatilità come società io salterai la parte del food delivery Gabriele se tu sei d'accordo lasciamo comunque nelle slide è un'analisi diciamo sui certificati del food delivery che avevamo presentato anche nel webinar della scorsa settimana con Giovanni Borsi e andrei invece sul settore gaming che è molto interessante tu lo sai Gabriele che io sono una grande fan del settore gaming e diciamo per rispondere alla domanda di Michele sì mi sono comprata quasi tutti i certificati sul settore gaming mai esistiti quello assolutamente volevo far vedere anche questa secondo me è una slide che fa capire il discorso che abbiamo fatto all'inizio proprio del nostro webinar quindi come scegliere il prodotto quindi se vogliamo andare a investire sul settore gaming quindi ipotizziamo di conoscere almeno le principali società del settore gaming e possiamo decidere di investire a capitale non protetto condizionatamente protetto con basket settoriali oppure con basket multisettoriali quindi se andiamo sul capitale non protetto abbiamo due tracker certificate tracker certificate Tifontobel e quello di Leontech in particolare possiamo analizzare diciamo l'andamento dei due indici sottostanti i tracker certificate quello di Fontobel nonostante diciamo il prodotto italiano abbia un indice italiano tra virgolette quindi nuovo il prodotto svizzero che comunque è una copia identica di quello italiano ha un indice più vecchio quindi possiamo vedere l'andamento dell'indice più indietro nel tempo che ci dà secondo me un avvio interessante quindi vediamo come la performance in realtà da marzo che è anche la data di inizio del tracker Fontobel è più bassa per il tracker Fontobel rispetto a quello Leontech perché quello Leontech è basato sull'indice Solactive Electronic Gaming Index che ha fatto un più 190% da marzo 2020 quindi vediamo che l'andamento è abbastanza simile però il rendimento è leggermente più alto su quello di Leontech quindi se vogliamo andare sui capitali non protetto quindi siamo estremamente rialzisti come abbiamo detto prima perché qui non abbiamo una barriera quindi se corregge corregge e perdiamo soldi possiamo andare sui tracker anche con un sistema di pack che secondo me può aver senso assolutamente sui tracker in generale ma soprattutto in questo momento storico tra i prodotti a capitale condizionalmente protetto abbiamo due prodotti settoriali che sono quello di Leontech Electronic Arts Activision e Hasbro e quello di Fontobel Electronic Arts Activision e Ubisoft il primo diciamo ha Hasbro effettivamente molto sopra il livello di Strike quindi possiamo tra virgolette un po' dimenticarcelo è diventato quasi un basket settoriale e ha un premio trimestrale del 3% un 12% annualizzato barriera scadenza del 60% e premio del 75% il secondo invece che è quello di Fontobel su Electronic Arts Activision e Ubisoft in realtà è una copia di un prodotto che è già andato in autocollo ce ne sono stati altri due in passato questo ha un premio dell'1,86 trimestrale 7,44 annualizzato con barriera premio e barriera scadenza al 60% e diciamo un prezzo leggermente più basso in questo caso vediamo appunto nella diciamo nella tabella sotto la barriera premio e capitale per Electronic Arts quindi vediamo appunto la barriera premio e capitale per Electronic Arts tra i due certificati e Activision che sono identici Ubisoft che invece è la la terza società è quella worst of nel basket Fontobel tra i due diciamo attualmente vediamo come il rendimento annualizzato è più o meno lo stesso quindi leggermente più alto ovviamente per il certificato Leontech però la vera differenza è la protezione nel caso di correzione quindi anche quando qua ritorniamo anche a una domanda che è stata fatta ovviamente più protezione ho meno sono lineare rispetto a un'eventuale correzione perché più sono lontano dalla barriera e quindi questo ci fa capire come una maggiore protezione del capitale è vero che ci dà magari un po' meno rendimento ma comunque ci protegge di più anche in fasi di forte correzione quindi anche nel momento in cui ad esempio dovessimo aver bisogno di liquidità e vogliamo vendere siamo in una fase di correzione per esempio siamo a marzo 2020 e volevamo vendere perché ci serviva la liquidità per fare qualcos'altro in quel caso il prodotto va a perdere di meno rispetto a un prodotto che ha minore protezione del capitale quindi diciamo appunto tra i due io ho acquistato il Fondopen per ritornare sempre alla domanda di Marco di Michele e ci chiedono cosa pensate di certificati che hanno come sottostante Nio e questa te la lascio a te Gabriele no no rispondi pure perché so che Nio è un'altra delle tue passioni no allora a me Nio c'era un bellissimo prodotto Nio Tesla qualche mese fa che effettivamente era molto interessante adesso al momento come su Tesla sarei abbastanza non lo metterei in un basket sinceramente quindi se diciamo un cliente istituzionale mi chiede magari di scegliere tra il settore autoelettriche che cosa mettere dentro il basket proverei per il momento a non mettere né Tesla né Nio io al momento non ho questo tipo di visione così positiva su Nio ovviamente mi piaceva prima del rally era interessante anche per una questione di volatilità quindi è anche un po' questo il discorso Nio ha un po' perso lo smalto ultimamente perché ha perso anche un po' di volatilità e lo rende meno interessante rispetto a qualche mese fa poi ovviamente è come è lo stesso discorso tra virgolette del Bitcoin cioè comprare oggi il Bitcoin cioè non sappiamo se si rialza è lo stesso identico discorso secondo me i certificati su Nio attualmente magari hanno una barriera del 50% però non è così protettiva come qualche mese fa è un po' quello il discorso quindi può può assolutamente essere interessante per alcuni io non ho prodotti con Nio per esempio in portafogli continui tu perfetto dicono sempre ovviamente a basket non a singolo sottostante il punto è proprio che probabilmente quello sarà il worst off perfetto ci chiede Roberto in termini assoluti la barriera capitale non è più bassa in quello con Asbro quindi vediamo diciamo la barriera capitale per esempio su Electronic Arts è a 77 su diciamo su quello Leontech e a 83 su quello Fontobel e quello Activision invece ha 48 rispetto ai 57 quindi la barriera capitale sì la barriera premio invece no quindi diciamo la barriera per ricevere il premio è al 75% quindi è un po' più difficile ricevere il premio mentre la barriera capitale è più protettiva sul Leontech non vedo non so se ci sono ulteriori domande ma siamo già fuori orario io in ogni caso manderò la presentazione a tutti coloro che si sono iscritti al webinar ovviamente se c'è una qualsiasi domanda anche nei prossimi giorni su approfondimento anche di alcuni prodotti o sottostanti come ci hanno fatto anche nei giorni passati siamo felici diciamo di rispondere e fare anche le nostre analisi e in ogni caso rimaniamo a disposizione la mail di Free Finance ve la ricordo è info freefinance punto biz potete mandare anche segnalazioni di prodotti quindi quando trovate dei prodotti magari interessanti che pensate possano essere interessanti anche per altre persone noi abbiamo il canale telegram abbiamo facebook abbiamo il sito dove pubblichiamo proprio le segnalazioni degli investitori quindi se volete segnalare il prodotto e permettere anche agli altri di beneficiarne contattateci perché può essere utile per tutti assolutamente magari ne approfittiamo anche per ricordare che saremo insieme il 22 un webinar ad hoc sul settore cripto quindi non parleremo solo di cripto ovviamente ma il tema sarà quello quindi non parleremo solo di monete virtuali ma la tematica da cui partiremo poi per declinare i nostri ragionamenti anche in ambito certificati ovviamente sarà quello non dimentichiamoci che anche il mese prossimo faremo un webinar insieme adesso così a memoria non ricordo la data però se siete iscritti a questa videoconferenza automaticamente siete iscritti anche alla prossima e riceverete gli aggiornamenti poi se io e Francesco ovviamente vi daremo nei prossimi giorni le date gli orari precisi gli orari sarà sempre dalle 18 alle 19 come in questo caso ci chiedono anche il libro quando uscirà lo stiamo terminando credo ad occhio tra due mesetti più o meno dovrebbero dovrebbe già essere in tutte le librerie ovviamente anche su Amazon ok io direi che per questa sera è tutto non so se vuoi aggiungere qualcosa direi che ovviamente diciamo cerchiamo di dare un po' di contenuti piano piano anche nei webinar ma il libro conterrà una serie di approfondimenti abbastanza importanti e cercheremo di riassumere per quanto più possibile tutti i contenuti diciamo e renderli fluibili a tutti proprio per cercare di sviluppare sempre di più questo settore e l'idea è anche che sono proprio clienti a sviluppare il settore quindi sono gli investitori e tutte le persone che comprano certificati o anche se lo si interessano ai certificati e per questo è anche molto importante magari segnalare quando trovate qualcosa interessante in modo tale che tutti quanti noi possiamo beneficiarne io ringrazio anche tante segnalazioni perché tante le ho seguite anche io grazie a tutti e buona serata buona serata grazie a tutti